Secondo me è un po' di cinismo sottoporta perché abbiamo creato molte occasioni ma ci manca sempre l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro. Sì, nel secondo tempo abbiamo spinto di più, forse dovevamo iniziare mentre stavamo in parità e non mentre siamo andati loro al sotto. Lui ha fatto la punta da ragazzino, quindi è uno che ha il gol c'è là dentro, però negli anni è cresciuto e ha deciso di poter partire palla al piede dall'inizio del campo, anche per far girare un po' il pallone, visto la sua qualità. Quindi penso che sì, forse ci sta mancando un po' in gol ma tornerà presto perché è il giocatore più importante della squadra. Grazie, in bocca al lupo a Riccardo Trudini allora.